Il tizio dell'Enoteca mi ha detto che ha vinto Bottiglia dell'Anno in Abruzzo. Addirittura! Com'è, com'è? Da merda! Ma vi ricordate? Quando eravate piccoli, che mettevo questa canzone? È Natale! Io non ci sono a canzone di Natale, mi sono completamente dimenticata di dirlo. Poi io c'avevo una mezza cosa, mezzo invito, eh! Ma soltanto è Natale? Certo che Emilia e Alessandra non si presentano neanche se c'è un modo. Mi sa che si sono offesi perchè non vado a Natale, eh! La prima volta invito a me è tipo una settimana che non li sento. Nonna, mamma e papà! Non ve l'hanno detto, hanno ereditato da zia Tea. Ciao! Ci ha lasciato un pezzetto della sua eredità. Quanto? Sei milioni! Potrà dire addio a questa vita di merda! Intendi la vita con me? Un brindisi alla zia Tea! Che posso dirmi? Ma come facciamo a fargli credere che siamo dei milionari? Quanto da offi to? Si da Natale. Ma che è sta burinata? Non ho una figura di merda. Quella volta che uno esce a mangiare, deve badare alle spese. Non voglio vedere quanto paghi perchè mi sento male. Prendete per caso anche i buoni passi? I ticket restaurants? No. Che perché me ne sarebbero serviti i 300. E comunque avevi ragione tutto. tutto il fatto che per i soldi si sarebbero rifatti vivi. Immagini quando gli diremo che era tutto finto? Guarda che siete andati troppo in là. Voglio trovare la mia strada. Dammi il libretto degli assegni. Te curo c'è il nome! Gli ha capito 200.000 euro così lo fa una socia. Ma sei scemo? Tutto questo per sto Natale maledetto che me perseguita! Mi hanno lasciato solo quattro soldi. Io il Natale se sei venuto non lo voglio fare. Estruite Pazzo. Per l'assicurazione come facciamo? Se succede qualcosa ti strappi le palle e gli butti il cane. Ah non la franchigia alta?